No! No vogliamo! No vogliamo! Quando? No adesso! Quando? No adesso! Studenti in piazza a Roma, così come in altre 180 città, per il Fridays for Future, il terzo sciopero globale per il clima, a cui hanno aderito centinaia di ragazzi italiani, insieme ad altri studenti di 210 stati. Tanti giovani che nella capitale si sono dati appuntamento a Piazza della Repubblica, punto di raccolta della manifestazione, alunni delle scuole e alcuni adulti, con slogan, cartelli e striscioni d'allarme per l'emergenza climatica, molti anche in inglese. Save our planet, la terra brucia, meno egoismo e più ecologismo alcuni di questi, e in tanti hanno mostrato la copertina di riviste e giornali con il volto di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ha dato il via al movimento globale e ha ispirato molti di loro. I giovani chiedono un cambiamento urgente delle politiche ambientali e se non verranno ascoltati promettono che continueranno a farsi sentire.